Cambiare è cool, perché con Kia Stonic sei sempre alla moda. Cambiare è sporty, perché con Kia Sportage ti godi sportività e design. Cambiare è hybrid, perché con Kia Niro sei già proiettato al futuro. Grazie a Scelta Kia sei libero di guidarle tutte, perché dopo due anni decidi se sostituire, restituire, ottenere il tuo crossover. Qualità garantita 7 anni.